Il giorno di oggi è invitata a tutti i nostri amici, quindi è stato di laster, ora d'orpa e a tardi di oggi. La nutricistica è donata informazione sulle nutrizioni. Quindi è un'attardi di informazione, quindi è donata informazione generale, di cuido medico, è donata informazione sulle salute e si accadeva con parte di nutrizioni. Lo che è più importante è che noi stiamo attivando tre attività che ci sono attività qui. Il viaggio qui, con la Commissione e con la Diretiva del Movimento Electoral del Pueblo, è scogliere la prima temazione. Però il prossimo è che ci sono stati presenti il domingo. Allora, noi stiamo realizzando un'enquesta, anche noi stiamo attraverso il giorno, località, horario. Però anche, Kiko è un'attardi di necessità di informazione, Kiko è un'attardi di necessità di informazione. Quindi, conjuntamente con l'altra stipulare, Kiko stiamo attraverso il contenuto e formazione di attività che ci sono attraverso un luogo in agosto prossimo. L'assistente viene attraverso il calendario strato, anche noi stiamo attraverso il contenuto, ma che le hanno usano l'opportunità che la Commissione ha creato. La attività non sono soltanto per che ci sono attraverso un'attardi di necessità, ma che ci sono attraverso un'attardi di informazione, ma che ci sono attraverso quello che ci sono attraverso, che ci sono attraverso, e ci sono attraverso l'assistenza. ma si usano l'opportunità di creare la comissione, sicuramente la nostra maniera di medircire se in verità ciò che ci stanno proponendo, è necessario e è esitoso. E ciò che voglio enfatizzare, forse per esempio, ciò che c'è domenica, che si tratta la salute, la salute è importante, ciò che è importante, più e più instanze, ciò che ci stanno dirigendo questo tópico, ma noi, come la Comissione di Accezione Femenina, voglio enfatizzare la necessità per enfocare un po' più, come gente, ciò che è parte di salute. Per esempio, la Comissione di Accezione Femenina di MEP, mi ha dato un'invitazione personal. che ci sono seguendo le informazioni via qualche medio di comunicazione, non ci sono sperato una sede di MEP, 5 ore e mei, per 5 ore e mei, non ci sono cominciate esattamente 5 ore e mei, ci sono qualcosa che la Comissione ci ha proposto, ci sono un po' più, ci sono un po' più, ma ci sono un po' più, però 5 ore e mei, non ci sono cominciate, non ci sono un po' più lungo, non ci sono una chessa di scope e ci sono un po' più Grandia e da qui per cui ci sonoบate e soprattutto ci sono Ministero Femenina la Città della Città della Camera di Femenina di Mecona, ma come gente, non ci sono bici questa domanda che ci sono Kapenциzione Femenina della città della sede aaa la parte mondiale che ci sono messi per la scuola che sono un po' più lungo 搞ato e non vi città e attività di già domingo a ora lo por passa che c'è la presione se c'è metà algo che vi c'è questa brinda e non vi c'è assistito a la nostra attività già domingo a ora quindi mi guarda pozo la Comissione di Tavara Puebla in generale per assistire qui nella sede 4 ore, 5 ore e mei 7 ore e mei